allora moratti dichiarazioni per tutto una grande puttanata sul fatto di snyder consigliato da un da un suo amico un amico del figlio si segnò il suo nome lo fece seguire poi un'altra puttanata di figo ha raccontato c'è pure la sua età giustamente noi uomini a una certa età ci rincoglioniamo terza grande cagata di moratti e quella che se fosse stato presidente dell'inter attualmente avrebbe risposto a cristiano ronaldo con con il tentato acquisto di messi e voi ci credete e voi ci credete pure cioè stiamo parlando di un di un individuo che guarda mi metto in ginocchio per lui perché mi ha fatto vivere il giorno più bello della mia vita dallo stadio mi ha fatto vivere momenti indimenticabile ok quindi chapeau su moratti però una volta che è uscito dall'inter sarà sempre il nostro presidente però non deve prenderci in giro perché vi ricordo che quando il milano ha preso zrata nipraimovic noi abbiamo risposto con forlan e zarate cioè quello voglio far capire quindi moratti tifi inter si faccia vedere di più allo stadio e metta pressione a forse era un'idea e forse è stato un un tentativo per mettere pressione a suninghen e per dire deve cacciare i soldi però ragazzi solo questa è l'unica chiave di lettura che gli possa reso e alle sue dichiarazioni non fatemi sentire gente già vedevo su facebook su instagram gente che scriveva e riportava le parole di moratti ma di che cosa ragazzi ma non credete all'aseno che vola che ci ha fatto ci ha fatto mangiare dopo il triplete dopo l'anno dopo il 2011 ci ha fatto mangiare pane e cipolla moratti io lo ringrazierò a vita però non crediamo ok seduto seduto nel sufficio o sotto il sufficio le sue dichiarazioni che sono dichiarazioni che non ci fa in questo periodo nero perché è nero dell'inter che l'inter gioca per il terzo posto l'inter gioca per la coppa italia e l'inter viene eliminata dalla champions league dobbiamo sentire queste dichiarazioni che possono solo incrementare il malcontento dei tifosi che cosa vuoi rispondere che ibraimovic ha risposto con mauro zarate ibraimovic al milan forlana all'inter ma era il miglior giocatore del campionato ma che si vogliamo pure paragonare zlatan ibraimovic a forlana uno con il nasabecco abbo che pure ibra c'è al nasabecco vogliamo paragonare zlatan ibraimovic a zarate oh dai quindi volevo fare solo questo breve video su per per dire a voi tifosi dell'inter non credete alle favolette e questo è una dichiarazione fuori luogo che non ci voleva non ci voleva perché moratti ha speso una volta che ha vinto non ha speso più ha tirato i remi in barca e ci ha mandato alla rovina io lo ringrazio a vita ma non dimentico neanche le figuracce che ci ha fatto fare ok forza inter iscrivetevi al canale se non mi conoscete oggi vi accolgo in pigiama vegetalismo totale letargo fino alla befana ciao ragazzi moratti meno cagate e più passione ciao raga